Milano vista dall'alto, anzi il cinema visto dall'alto di Milano. Anche quest'anno torna all'iniziativa Cinema Bianchini. 300 proiezioni di grandi pellicole da poter ammirare per tutta l'estate sul tetto della Galleria Vittorio Emanuele II, a due passi dal Duomo. Si tratta della terza edizione della rassegna cinematografica che nelle due passate stagioni ha riscosso un grande successo. Tra i film che si potranno ammirare, Vacanze Romane, A qualcuno piace caldo, Colazione da Tiffany, La grande bellezza. Un'uscita al multisala alternativa insomma, durante la quale le stelle del cinema si confonderanno con quelle del cielo milanese.